Incontrare i candidati dei principali schieramenti alle prossime elezioni politiche, per connoscerne i programmi e fare delle proposte per la nuova agenda di governo. Così Confagricoltura Umbria, che prima a Todi e poi a Città di Castello, ha fissato due appuntamenti per fare il punto sul rafforzamento delle filiere produttive nazionali e regionali, ma anche su temi come ambiente e sviluppo sostenibile, competitività, politiche europee, lavoro e previdenza sociale, fiscalità e credito. Dare voce ai vari schieramenti, chiaramente in maniera bi-party, sui programmi che vogliono fare, per cui anche questi programmi saranno anche presenti nel nostro sito, li divulgheremo nei social ai nostri agricoltori, per cui diventa importante sapere come la pensano, chi è candidato, anche le loro conoscenze, quindi per quel che riguarda l'agricoltura e soprattutto sui grandi temi, i grandi temi che sono in questo momento, la necessità di fare invasi, la necessità di risolvere il problema dell'acqua, la necessità di dare delle risposte immediate ai problemi energetici che attanaiano tutto il sistema produttivo, ma sicuramente anche in particolare l'agricoltura, in particolare anche il settore della trasformazione. Per cui questi sono i temi importanti, poi ci possiamo mettere altri che hanno un carattere nazionale, ad esempio quello della problematica dei ungulati, la problematica della peste suina africana, che in questo momento sia a livello regionale che a livello nazionale sono stati distribuiti, direi, non più che dei panicelli caldi. Tra le questioni da affrontare anche il Nutri-Score, sistema francese di etichettatura dei prodotti alimentari, che penalizza la produzione italiana, contro il quale Confagricoltura schiera il Nutri-Inform. Noi andremo a sostenere chi ci ha sostenuto e chi ha avuto un appoggio assolutamente scientifico ai problemi dell'agricoltura, piuttosto che un appoggio integralista senza nessuna conoscenza, senza appunto un appoggio scientifico. Per cui avere i programmi, avere davanti i candidati aiuta nella scelta di fare appunto le scelte elettorali e questa è una fase importante anche per gli stessi candidati e per avere un po' di visibilità. E farete anche delle proposte? Sì, faremo le proposte su questi argomenti, in primis quello più importante in questo momento, quello energetico, perché rischiamo veramente di non avere sulle nostre tavole certi prodotti, tra poco e anche nel prossimo futuro, perché se le industrie di trasformazione in particolare si fermano, rischiamo di non avere già ora le bottiglie per mettere l'olio, dico per dire, oppure avere le scatole di pomodoro, perché comunque queste trasformazioni che sono energivore poi creano problemi e una, due, tre mesi di bollette molto elevate stanno mettendo in ginocchio tante e tante nostre aziende. Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 settembre a Città di Castello, alla Fattoria Autonoma Tabacchia alle ore 17. Per la coalizione di centrodestra interverranno Virginio Caparbi di Lega, Katia Polidori di Forza Italia, Emanuele Prisco di Fratelli d'Italia, per il centrosinistra Walter Verini del Partito Democratico, Filippo Gallinella di Impegno Civico, per il terzo polo Luciana Bassini.